Oroscopo agosto 2016 Scorpione Amore. I sentimenti sono un po' in subbuglio per questo mese di agosto, fatto di litigi e incomprensioni col partner. Se siete single, evitate di intrattenere nuove storie o flirt, anche perché questo non è il mese più propizio. Lavoro. Per quanto riguarda la sfera professionale, tutto procede come al solito. Siete soddisfatti di quanto state mettendo in pratica per la vostra carriera e sentite che i vostri sforzi saranno pienamente ricompensati sul lungo termine. Salute. Vi sentite un po' fiacchi in questo mese eccessivamente caldo. Non vi sforzate troppo. La palestra e la corsa possono tranquillamente essere messi in atto a partire da settembre. Ora riposatevi e date libero sfogo alla creatività. Grazie. Grazie. Grazie.